Una persona con i suoi sentimenti e con la percezione di ciò che gli altri pensano di lui, il disabile ancora oggi è, nell'opinione più comune, colui a cui manca qualcosa, che ha qualche carenza, un pregiudizio che è radicato nella nostra società, che tende a nascondere le vere potenzialità della persona, insomma si guarda a ciò che manca e non a ciò che è presente. Lo dice e lo scrive Tommaso Fanucci, 26 anni, affetto da una grave forma di disabilità motoria, laureato in discipline dello spettacolo e della comunicazione nel suo nuovo libro dal titolo Scomodo, il mio percorso a ostacoli, edito da Felice Edizioni, presentato a pesce all'interno delle sale della Fondazione Poma. L'esigenza di scrivere questo libro è partita prima da qualcosa di psicologico, poi in seconda partita è forse la più importante di lasciare un messaggio alle persone meno fortunate che magari non ce la fanno a combattere contro l'istituzione di cuore per dargli forza anche alle famiglie e per far sì che non siano più immaginate come è capitato a me. Ma perché Scomodo? Da cosa è ispirato questo titolo? Chi è Scomodo? Io sono Scomodo, ci dice lo stesso Tommaso. Perché sono seduto sulla carrozzina, però io sono stato scomodo anche in casa con la mia bellezza, con la mia voglia di non fermarmi mai. Insomma, ecco, questo è il mio motivo.